Musica Apriamo questo nuovo ciclo con una grande star, una prima donna del cinema italiano, Isabella Ferrati Mettermi un pomeriggio al cinema mi regala qualcosa di straordinario Non accendo il telefono, mi distacco da tutto e mi godo un film Cosa che non mi succede a casa sul divano guardando un buon film E ho veramente gusto nel poter cambiare, nel poter essere quello che il regista ha pensato per il suo copione Questo è il motivo per cui non riesco mai a pensarmi come regista Quella pagina bianca io non so come dirigerla, come costruirla Sono sempre soltanto un'attrice